Siamo qua a Kei e introduciamo per la prima volta sul mercato italiano il nostro sistema di accumulo sia residenziale che commerciale. Una delle particolarità di queste macchine sono ovviamente pacchi batteria da 5 kWh fino a 4 per cui arriviamo a 20 kWh e sono di derivazione automotive sia le celle che le batterie. Siamo produttori del pacco batteria e una delle caratteristiche principali è la sicurezza. Abbiamo le valvole di pressione su ogni pacco batteria per cui in caso di problema sulla cella interrompiamo il circuito e andiamo in sicurezza. La stessa cosa abbiamo dell'arrivazione del fumo per quanto riguarda le batterie. Ovviamente in abbinata con le batterie presentiamo i nostri inverter ibridi monofase e la famiglia trifase fino a 25 kWh. Tutti i modelli sono certificati ovviamente 0,21 e 0,16 nel caso anche dei trifase.